guarda un po questa è la pineta la fantastica pineta cinque chilometri andare cinque chilometri tornare il sole che tramonta sul mare si guadagnano giorni di vita ogni momento che si passa in questo fantastico polmone di buona energia saremo qui in ottobre saremo qui ed oggi io sono qui a celebrare la chiusura delle call for papers sia performance che regolari abbiamo finito abbiamo raggiunto e superato le 220 application qualcosa di impensabile incredibile grazie a tutti voi abbiamo già più di 200 partecipanti iscritti e adesso abbiamo sei mesi di tempo per costruire insieme la community per invitare amici le persone le quali vogliamo bene tutte le persone che pensiamo che si possono meritare di godersi un incontro che può cambiare non dico la nostra vita può cambiare il nostro modo di stare al mondo di vedere le cose può dare speranza può seminare un seme di fiducia alle persone che magari non sanno che c'è in corso una trasformazione importante nel mondo che ci sono persone che vivono e che cercano la trasformazione della coscienza della realizzazione del sé forse potremmo sentirci un po coinvolti no in questo essere la differenza che fa la differenza in questo dare il nostro contributo a invitare le persone che conosciamo che potrebbero essere interessati questo momento di partecipare tutti insieme per un evento nel quale potremmo divertirci crescere insieme costruire qualche cosa di buono per le future generazioni quindi abbiamo bisogno di te